Wuhan è una città spettrale, poche auto in circolazione, solo quelle autorizzate e quasi nessuno in giro, come mostra questo video realizzato da Siu Mingto e Marissa Linsei, videomaker molto popolari sui social cinesi. I due giovani vanno a fare la spesa in un centro commerciale semideserto. Cercano ortaggi freschi, ma molti scaffali sono vuoti, tanti hanno fatto scorte in previsione di un lungo periodo costretti a restare chiusi in casa. Le autorità hanno ordinato l'isolamento della megalopoli, considerata epicentro del coronavirus. Nessun treno, aereo o bus collega la città al resto del mondo. La municipalità conta 11 milioni e 800 mila persone e più affollata del Cairo, Seul e città del Messico. Una popolazione in quarantena, col coprifuoco dalle 4 del pomeriggio in poi. E di notte, i segregati a rischio contagio si incoraggiano così. Forza Wuhan, urlano. Il coro si propaga da un quartiere all'altro, in attesa che una nuova giornata da reclusi cominci.